Un errore tecnico riconosciuto dall'arbitro davanti al giudice sportivo che porterà alla ripetizione della partita. Un'eccezione nel mondo del calcio, i fatti. Nel corso di Francavilla Campobasso del 12 gennaio scorso, terminata 2-1 per i Molisani, il direttore di gara Mario Perri di Roma 1 ha espulso il giocatore sbagliato, per la precisione Gello Rosso Nazari, al posto di Alessandro Tirenzo che in realtà aveva commesso il fallo. Al termine della partita il Francavilla presenta il ricorso che è stato accolto oggi, decretando appunto la ripetizione della gara. Il giudice sportivo non ha valutato soltanto l'errore tecnico dell'arbitro, ma ha valutato che l'errore tecnico ha influito sul risultato finale della gara, perché il principio del codice giustizia sportiva, che è l'articolo 17,4, non prevede solo l'errore tecnico e quindi il rifacimento della partita, ma ci deve essere il cosiddetto principio di effettività, che significa che l'errore abbia influito sul risultato finale. Diciamo che siamo stati anche bravi noi, devo ringraziare i miei collaboratori, in primis Fabio Gatta, che è il nostro manager e nonché il segretario generale, che è stato il primo a credere in questo ricorso, e in secondo luogo l'avvocato Giuseppe Febbo che ci ha dato una mano per ampliare e abbellire il nostro ricorso. Contenti voi, un po' meno naturalmente il Campobasso che aveva vinto sul campo questa partita per 2-1, Campobasso che presumibilmente farà a sua volta ricorso contro questa decisione del giudice sportivo? Questo non lo sappiamo, adesso loro valuteranno in base anche alle carte che chiederanno sicuramente al giudice sportivo per valutare le motivazioni, ma penso siano queste le motivazioni che vi ho spiegato precedentemente. A noi dispiace per il Campobasso, ma penso che anche loro nella stessa situazione avrebbero fatto quello che abbiamo fatto noi. Da definire data e orario del recupero? Sì, questo deciderà la Lega quando ci saranno gli spazi, visto che il campionato è molto lungo e molto concentrato.